IFA 2010, siamo allo stand JVC dove ammiriamo un nuovo esemplare delle camcorder della linea Everio. All'anagrafe questa videocamera si chiama GZ-HM550, è una videocamera proposta da JVC in diverse colorazioni, contraddistinta da un sensore 9 megapixel, la quale in questo momento la vediamo in azione, la videocamera è piuttosto piccola, sta comodamente nel palmo della mano, tecnologia super low lux per garantire colori naturali anche in caso di condizioni di luce piuttosto scarsa e una caratteristica fondamentale anche di questa nuova videocamera è la presenza di uno stabilizzatore ottico ma soprattutto del bluetooth, bluetooth che permette il controllo delle funzioni fondamentali della videocamera anche da uno smartphone compatibile come ad esempio Blackberry e non solo, bluetooth che consente il collegamento a un headset, perciò a una cuffia auricolare per avere un riscontro immediato proprio direttamente nelle orecchie dell'audio che stiamo riprendendo e in presenza di un'unità esterna GPS sarà possibile anche fare del geotagging, cioè fondamentalmente salvare informazioni geografiche relative a longitudine e l'attitudine della ripresa effettuata. Ottimo modello.